Cos'è il trasporto di sperma? Il percorso degli spermatozoi, negli umani e negli animali, è la breve ma complessa storia degli inizi della vita. Oltre alle basi dell'accoppiamento, della creazione e del concepimento, gli scienziati hanno studiato attentamente i mezzi esatti di trasporto dello sperma per facilitare al meglio l'inseminazione artificiale, il trattamento dell'infertilità e la contraccezione. Ciò include non solo una comprensione di ciò che accade agli spermatozoi prima che lasci l'uomo, ma anche dopo che è entrato nella donna. La conoscenza comune è che il trasporto di spermatozoi inizia quando le cellule spermatiche vengono prodotte nei testicoli maschili, ma questa è la misura della conoscenza di molte persone. In ciascuno dei testicoli, piccole bobine chiamate tubuli siminiferi producono circa 12 miliardi di spermatozoi ogni mese nel maschio adulto medio. Prima della maturità, queste cellule sono conservate appena sopra i tubuli dell'epididimo, dove rimangono fino alla maturità. Quando il pene viene stimolato, il trasporto di spermatozoi si sposta dall'epididimo, attraverso il tubo del dotto deferente fino ai dotti eiaculatori. A questo punto, le cellule vengono unite con il liquido seminale prodotto nelle vescicole seminali vicine. Questo fluido contiene cibo per le cellule sotto forma di glucosio e protezione dal clima acido della vagina sotto forma di alcali. Dopo l'eiaculazione, il liquido seminale viene spinto attraverso la ghiandola prostatica, che aggiunge uno spesso fluido lattiginoso alla prostata per aumentare la velocità nel nuoto attraverso l'uretra per la propulsione nella vagina. Il trasporto dello sperma può durare fino a 48 ore. Questo è quanto tempo lo sperma deve trovare e concimare l'uovo all'interno dell'utero prima di morire. Secondo la Medical School dell'Università della Pennsylvania, solo circa 200 dei circa 300 milioni di spermatozoi in ogni eiaculazione arriveranno all'uovo. Solo uno e di tanto in tanto un altro sarà permesso l'ingresso per una nuova vita per iniziare. Una volta depositato all'ingresso cervicale, il liquido seminale inizierà a liberare gli spermatozoi dalla sua presa. Questo avvia il processo di capacitazione, o la maturazione finale e iperattivazione. Le cellule si mescolano con il muco cervicale acido, che elimina le cellule deboli e consente alle cellule forti di entrare nella cervice. Quando il trasporto di spermatozoi arriva alle tube di falloppio, l'utero immagazzina in realtà migliaia di spermatozoi in fertilità sospese fino a quando l'ovulo raggiunge la sezione centrale delle tube di falloppio, chiamata giunzione ampollare istmica. È qui che avviene la maggior parte della fecondazione umana, poiché lo sperma, indotto da impulsi ormonali e termici, può arrivare all'uovo immaturo o all'ovocita. Qui, la membrana esterna delle uova, chiamata zona pellucida, consente l'ingresso di uno spermatozoo e quindi blocca tutti gli altri. Si forma uno zigote e cellula singola tra l'uovo e lo sperma, che nei prossimi nove mesi si dividerà più volte per produrre la prole.